Ben ritrovati per gli studenti che sono in aula qui per la laurea triennale in biotecnologie e un saluto anche alle persone in aula e collegati sia di Biotech che della laurea triennale in scienze biologiche che ci seguono dalla fiera in live streaming. Allora oggi come sapete abbiamo come ben tre ospiti che terranno la lezione appunto riflessione sulle sperimentazioni animali, il modello zebrafish per prima cosa vorrei introdurvi Elisa Mosconi che è project manager per eventi e comunicazioni di AIRC e nonché tra i vari progetti si occupa di coordinare proprio il progetto AIRCampus per il quale noi oggi ospitiamo questa lezione quindi poi dopo lascerò parola a Elisa che vi parlerò un po' di questo progetto e di AIRC. A seguire ci sarà il dottor Giuliano Grignaschi una breve introduzione dal 2005 è stato ricercatore nel Dipartimento di Neoscienze dell'Istituto Mario Negri di Milano sempre fino al 2005 in realtà dal 2005 è stato nominato responsabile dell'Animal Care Unit sempre dello stesso istituto e dal 2018 ricopre il ruolo come responsabile del benessere animale degli stabulari degli Atenei milanesi poi se dico qualcosa di inesatto correggimi è inoltre vicepresidente della Basel Declarational Society è segretario generale di Research for Life quindi una serie di organizzazioni che si occupano appunto di benessere animale e membro del consiglio direttivo dell'European Animal Research Association a seguire avremo l'intervento di una giovane ricercatrice lasciami dire, in virtù della mia età ormai la dottoressa Elisabetta Palazzo che appunto ha ottenuto la laurea specialistica in biotecnologie mediche e successivamente il dottorato in medicina molecolare generativa presso l'Università di Modena e Reggio ha avuto la possibilità di svolgere diversi periodi all'estero un intervento di ricerca nel 2011 a Parigi all'LVMH Christian Dior e poi per tre anni come visiting fellow presso il Laboratory of Skin Biology negli Stati Uniti presso l'NIH a Bethesda dopodiché si è rientrata in Italia e qui ha lavorato presso Dermolab che è un famoso laboratorio di biologia cutanea dell'Università di Modena e Reggio è stata ricercatrice per la Fondazione Veronesi dal 2017 al 2019 e si è occupata proprio dello studio del carcinoma cutaneo in diversi modelli sia in modelli 3D che i modelli animali della patologia tra cui proprio lo zebra infatti oggi ci parlerà proprio di questo modello e qui perché vincitrice della My First IHRC Grant della Fondazione IHRC e direi da poco da quest'estate è diventata ricercatrice presso l'Università sempre di Modena e Reggio quindi ho introdotto i nostri ospiti quindi lascerei in primis la parola a Elisa guardi metto qui prego Elisa grazie Monica per l'introduzione grazie ragazzi per essere qui oggi grazie all'Università che ci ospita ormai con successo da diversi anni io sono appunto Elisa Mosconi mi occupo di divulgazione di missione per la Fondazione IHRC non mi dilungo sulla presentazione visto che insomma sono già stata ampiamente introdotta e entro nel vivo della mia introduzione il progetto Air Campus di cui io sono responsabile quello a cui state partecipando oggi è un progetto promosso dalla Fondazione IHRC vi parlo parlo a voi visto che siete qui fisicamente chi mi sa dire che cosa fa IHRC non siete timidi? di che cosa si occupa? il logo lo conoscete quello con il microscopio è piuttosto famoso ve lo dico io era un'associazione ora è una fondazione nata nel 1965 e da allora l'obiettivo è sempre stato solo uno ossia contribuire a rendere il cancro sempre più curabile questo obiettivo viene perseguito fondamentalmente attraverso due strade prima di tutto finanziando la migliore ricerca sul cancro nel nostro paese considerate che ogni anno sono più di 5.000 ricercatori che lavorano grazie ai finanziamenti di AIRC tra cui anche la dottoressa Palazzo che è qui oggi con noi e parallelamente cerchiamo di fare corretta informazione scientifica quindi di riportare a chi ci sostiene o chi ha voglia di ascoltarci i risultati dei ricercatori che i ricercatori hanno raggiunto nei propri laboratori giusto per darvi un numero vi posso dire che nel 2021 AIRC ha destinato alla ricerca sul cancro oltre 136 milioni di euro che sono diventati 741 progetti di ricerca per i ricercatori affermati 93 borse di studio per giovani ricercatori quindi magari un giorno anche qualcuno di voi potrà avere una borsa AIRC e 22 programmi speciali vi dicevo cerchiamo di rendere il cancro sempre più curabile sicuramente finanziando la migliore ricerca ma anche comunicando tanto è fondamentale restituire a chi ha deciso di sostenere la fondazione con un proprio contributo con una donazione il buon indirizzo di quella donazione quindi detto banalmente dire alle persone in che cosa sono stati impiegati i loro soldi ma parallelamente è importantissimo anche fare corretta informazione scientifica per mettere alle persone le condizioni di potersi mantenere in salute io so ad esempio lo dico in maniera banale ma perché così ci capiamo che posso rimanere in salute o comunque prevenire determinate patologie adottando corretti stili di vita solo se c'è qualcuno che mi mette nelle condizioni di poterlo sapere quindi è fondamentale cerchiamo quindi di comunicare tanto di farlo al meglio delle nostre possibilità attraverso diversi canali e diversi strumenti approfitto dell'occasione per invitarvi a seguirci sui social uno magari pensa che a Erksi abbia un approccio un po' istituzionale la materia in realtà non è sempre così noi abbiamo due account Instagram uno è Erkit e l'altro è wonderwhy.it è un account relativamente nuovo attraverso il quale parliamo di scienza in maniera un po' più allargata un po' più leggera rispetto alla pura oncologia quindi se avete voglia di dare un occhio a noi fa sicuramente piacere tante attività nelle scuole e attività anche nelle università otto anni fa è nato Air Campus è stato un grandissimo esperimento per noi il pubblico degli studenti quindi voi siete fondamentali per il futuro della ricerca abbiamo iniziato a lavorare con l'Università di Padova oggi devo dire con soddisfazione siamo attivi in otto Atenei tra cui quello di Ferrara con cui collaboriamo già da diversi anni qual è l'obiettivo del progetto? condividere con gli studenti i nostri contenuti organizziamo lezioni come quella di oggi sentirete parlare appunto i nostri relatori che vi parleranno di benessere animale di come vengono utilizzati gli animali con un esempio chiaramente attraverso il progetto della dottoressa Pazzo di come vengono utilizzati il laboratorio quindi tutto questo fa parte della nostra ricerca e ci piace avere l'occasione di poterlo condividere con voi che appunto di questo vi occupate le persone sono sicuramente la forza di AIRC tutti quei fondi che vanno a sostegno della ricerca derivano da donazioni di privati che sono più di 4 milioni quindi veramente tanta gente è possibile raccogliere questi fondi anche attraverso delle grandi iniziative di raccolta fondi sul territorio e altre ce ne sono anche di più piccole però quelle più note sono la zalea della ricerca avrete visto i banchetti forse in occasione della festa della mamma nelle piazze italiane le arance della salute bene, quando vedete questi banchetti delle persone che li presidiano sappiate che sono solo volontari quindi tutto questo è possibile veramente grazie a uno sforzo individuale gratuito delle persone i volontari di AIRC sono tanti perché sono 20 mila quindi rispetto ad altre associazioni siamo fortunati ma non vi nascondo che c'è un gran bisogno di ricambio generazionale di idee nuove, di energie nuove per cui io approfitto di questa occasione per invitarvi a diventare volontari della fondazione non serve una preparazione specifica ci si può anche impegnare la mezza giornata all'anno quindi non è una cosa particolarmente onerosa ci sono varie possibilità poi lascio sicuramente ai vostri professori le slide in modo che possiate avere i riferimenti di che cosa fare e di come mettervi in contatto con noi qui c'è una pagina dedicata che si chiama generazioneairc.it AIRC ha una sede nazionale 17 comitati regionali che lavorano e sono operativi appunto sul territorio quello Emilia Romagna ha sede a Bologna questi sono i riferimenti dei miei colleghi che vi aspettano a braccia aperte io ho terminato entriamo nel vivo della lezione lascio la parola al dottor Lugnasky buongiorno a tutti grazie Elisa e grazie all'Ateneo per invitarmi sempre a tenere questo incontro sentite bene fine in fondo tutto quanto a posto fantastico allora iniziamo rapidamente perché non abbiamo molto tempo mentre invece questo è un argomento che richiederebbe veramente ore per poter essere affrontato in maniera completa rapidissimamente chi sono io più o meno vi è già stato detto qual è la mia storia più o meno vi è già stato detto chi è un responsabile del benessere animale il responsabile del benessere animale è una persona che non fa ricerca ok ma che controlla che i ricercatori facciano la ricerca secondo quelle che sono le normative vigenti ok normative vigenti che come vedremo vogliono preservare il massimo benessere possibile degli animali utilizzati quindi quello che mi piace sempre dire è che io sono quello che prende gli schiaffi dai ricercatori da una parte degli animisti dall'altra ok perché in un modo o dall'altro io sono tra l'incudile e il martello però questo mi hanno chiesto di fare in più poi ormai da parecchi anni il mio ruolo è anche quello di portavoce segretario generale di questa associazione che si chiama Research for Life che ha proprio come di cui l'Università di Ferrara fa parte che ha proprio come intento quello di far parlare il mondo delle ricerche biomediche e di cercare di fare una comunicazione il più possibile trasparente e aperta allora io partirei da qui nelle nostre considerazioni sto parlando di un gruppo di persone che probabilmente in futuro faranno ricercatori biomedici quindi è importante cercare di capire chi siamo chi vogliamo essere dove vogliamo andare e come ci vogliamo andare quindi dobbiamo partire secondo me dal concetto che deve essere chiaro che noi non siamo altro che un'anima di una una delle tantissime anime di una comunità molto complessa ok che ha tante anime Research for Life rappresenta un po' se volete questa pluralità di anime perché all'interno della piattaforma ci sono università istituti di ricovero cura ospedali associazioni di pazienti e tanti altri tipi di associazioni che in un modo o nell'altro si occupano di ricerche biomediche si occupano della salute dei pazienti allora cosa dovrebbe distinguere un ricercatore biomedico da tutto il resto della popolazione beh sicuramente una passione per lo studio io ve lo dico chi non ce l'ha è meglio che affronti una carriera di tipo diverso perché il ricercatore non ha mai finito di studiare continua per tutta la sua vita a studiare ad approfondire andare avanti nasce da lì la definizione topolo laboratorio perché in realtà o da biblioteca perché non ne esci mai e continui sempre a studiare altrimenti non vai da nessuna parte però d'altronde ho anche una grande passione per un'attività libera e sempre di frontiera perché non c'è niente dal mio punto di vista che sia altrettanto bello come fare ricerca perché hai veramente la possibilità di dare sfogo alla tua creatività al tuo ingegno per che cosa? chiaramente per cercare di trovare delle soluzioni per chi soffre sostanzialmente questo è il compito del ricercatore biomedico trovare delle soluzioni dei rimedi delle terapie per chi ha delle problematiche di tipo sanitario delle problematiche di salute e quindi questo fa sì che evidentemente il ricercatore biomedico abbia una grande come dire pulsione abbia un grande interesse nei confronti del malato ok? per il ricercatore biomedico il malato alla fine è quello al quale dobbiamo dare delle risposte è quello a cui ci dobbiamo rivolgere è quello che a noi interessa veramente è evidente che è così e io vi garantisco che se andrete avanti con questo tipo di carriere con questo tipo di attività e semmai arriverete ad un congresso dove oltre a voi che fate ricercatori ci sono anche i pazienti vi garantisco che incontrare lo sguardo del paziente che li ha ad ascoltare che novità ci sono per la sua patologia è una cosa che emette un'adrenalina notevole ok? quindi è quello che noi facciamo ogni giorno è quello che fa ogni giorno un ricercatore quel classico percorso che è dal bancone del laboratorio al letto del paziente per poi ritornare al bancone del laboratorio però è chiaro ed evidente che in tutti noi quello che interessa è il paziente non dobbiamo nascondercelo e quindi altrettanto non dobbiamo nasconderci che se ci ponessimo una domanda qualcuno ci ponesse la domanda ma qual è il modello migliore per studiare le malattie dell'uomo perché sono quelle che ci interessano credo che ciascuno di noi direbbe l'uomo per studiare la patologia dell'uomo il modello migliore è sicuramente l'uomo ok? poi ne possono venire tanti altri possono venire gli animali dal laboratorio possono venire culture cellulari più o meno complesse questo è un organoide di cervello quindi una cultura cellulara molto complessa microchip ok? quindi microfluidica che incontrerete sicuramente oppure studi in silico però credo che tutti quanti diremmo sì è chiaro l'uomo potrebbe essere il modello migliore ma lo possiamo fare? possiamo studiare tutto direttamente nell'uomo? no mi state dicendo con la testa da quando sostanzialmente non c'è stato qualcuno che ha detto ragazzi calma non fare la sperimentazione dell'uomo perché non è una cosa così eticamente soddisfacente Norimberga ok? fine della seconda guerra mondiale campi di sterminio nazisti dobbiamo essere sinceri credo che potrete verificare andando avanti con gli studi che nei campi di sterminio nei campi di concentramento nazisti sono stati fatti tanti studi direttamente sull'uomo che hanno dato anche dei risultati rilevanti dal punto di vista scientifico però la nostra comunità ha detto no dal punto di vista etico tutto questo non è fattibile non si può fare ok? si può sicuramente fare un determinato tipo di sperimentazione dell'uomo ma soltanto in presenza di un consenso informato ok? questo per dire cosa? che è una decisione etica non scientifica quello di non fare ricerca direttamente nell'uomo ok? quindi un domani la nostra comunità la comunità che ci circonda potrebbe anche decidere che non è più eticamente accettabile nemmeno fare ricerca nell'animale dal laboratorio in altri esseri viventi ok? per avere dei benefici per l'uomo è una cosa che la nostra società potrebbe decidere ok? quindi questa è una riflessione che dobbiamo fare perché è una riflessione che ha a che fare con l'etica e con la morale non soltanto con i risultati scientifici è chiaro quello che voglio dire? ok? per cui noi dobbiamo nelle nostre riflessioni andare anche cercare di capire ma insomma è moralmente giustificabile l'utilizzo dell'animale dal laboratorio per fini prevalentemente umani? vi siete mai posti questa domanda? sì? ok allora vedremo poi come e se le risposte che ci diamo possono coincidere e quindi evidentemente siamo specisti sapete tutti cosa vuol dire essere specisti? attribuire una maggior rilevanza ad una specie piuttosto che ad un'altra ok? quindi siamo specisti e quindi noi attribuiamo maggior rilevanza alla specie Homo sapiens piuttosto che a tutte le altre specie? sì? no? se diciamo no non siamo specisti è realmente attuabile nella vita quotidiana di tutti i giorni non esserlo? ok? e quindi dove troviamo l'equilibrio? e poi chiaramente tutto un aspetto scientifico che va dalla conoscere le normative internazionali gli ambiti di replicazione a che punto siamo con lo sviluppo di altri modelli alternativi e quindi che possibilità abbiamo in alternativa all'utilizzo del modello animale ok? per poter prendere delle decisioni oculate trasparenza e comunicazione quindi essere capaci di parlare liberamente di quello che facciamo e di discuterne di affrontare il tema non nascondersi quando qualcuno ci chiede cosa fate ma utilizziamo modelli animali che roba brutta sei un assassino e ci nascondiamo no? essere capaci di affrontare e di parlarne liberamente quindi trasparenza e comunicazione comunque aspetto etico-morale aspetto scientifico che devono per forza di cose interfacciarsi ok? se parliamo solo esclusivamente dell'aspetto scientifico sbagliamo perché c'è una forte componente morale e etica nell'utilizzo dell'animale da laboratorio e quindi se vogliamo parlare dell'aspetto etico dobbiamo anche conoscere un po' quale che sono le posizioni come si può affrontare questo tipo di argomento e allora quello che vi voglio raccontare io oggi molto rapidamente poi chiaramente sono a vostra disposizione per qualsiasi tipo di domanda è che sostanzialmente possiamo riconoscere due modi di affrontare dal punto di vista etico questo tema quello utilitarista che è stato proposto in primis da questo filosofo Peter Singer nato nel 1946 ancora in vita secondo il quale secondo l'approccio utilitarista in genere tutto va calcolato sul rapporto tra la quantità di dolore che creo e la quantità di felicità che questo dolore mi crea se è maggiore la quantità di felicità e quindi in questo ambito la felicità sono il numero di persone che guarisco ok il male che riesco a ridurre se è maggiore questo sono autorizzato a utilizzare l'animale in laboratorio eccetera eccetera se è minore allora no un approccio proprio utilitarista credo che lo possiamo comprendere tutti questo tipo di approccio chiaramente dà adito a quelli che vengono nominati i casi quelli che vengono definiti i casi marginali siccome è semplicemente la sofferenza la quantità di sofferenza o di felicità quella che conta allora sicuramente un un essere umano in coma sicuramente ha minor capacità di provare sofferenza anche di un topo o di uno zebrafish quindi da questo punto di vista uno potrebbe sentirsi più autorizzato ad utilizzare un essere umano in coma piuttosto che uno zebrafish ok sono chiaro ok lo stesso un bambino anacefalico nato anacefalico o comunque un qualsiasi essere umano che non ha una capacità di provare dolore sofferenza eccetera eccetera questo è l'argomento dei casi marginali per una persona che ha un approccio utilitarista soltanto la quantità di sofferenza o di piacere ok deve prevalere la quantità di piacere oppure cioè l'approccio successivo l'altro approccio che possiamo vedere è quello deontologico che è l'approccio di Tom Reagan che è mancato nel 2017 secondo il quale vanno riconosciuti i diritti fondamentali a tutti gli esseri viventi quindi mai in nessun caso l'uomo può sentirsi autorizzato ad utilizzare altri esseri viventi per il proprio interesse senza avere un consenso da parte di questi ok mai in nessun caso anche se questo potesse servire a guarire milioni di persone ok questo è un approccio radicale deontologico dall'altra parte invece abbiamo un approccio che è quello che io mi sento di dire che è quello seguito dalla comunità scientifica che è un approccio di accettabilità moderata cosa vuol dire vuol dire che non è che noi possiamo sentirci liberi di poter fare tutto quello che vogliamo con gli animali ok assolutamente no però dobbiamo riconoscere al senso di appartenenza di specie un significato morale perché nella natura di tutti gli animali sociali riconoscono una certa preferenza i membri della propria specie quindi questo fa sì che si possa riconoscere una rilevanza morale al fatto che anche noi riconosciamo una maggior rilevanza la protezione e la continuazione della nostra specie rispetto alle altre specie ok questo principio tuttavia come dicevo non esima assolutamente noi dal preoccuparci del destino degli altri animali quindi un'accettabilità moderata che deve chiaramente tenere conto di una serie di fattori e che deve essere sempre una valutazione di quella che nella ricerca nella scienza nella medicina è sempre il criterio cardine l'analisi danno-beneficio eseguita caso per caso cioè soltanto quando si è in grado di dimostrare che il beneficio è superiore al danno che andiamo a creare allora possiamo sentirci autorizzati a procedere in una determinata dimensione e quando parliamo di sperimentazione animale è chiaro ed evidente che il danno è la sofferenza che induciamo agli animali e il loro sacrificio il beneficio i benefici possono essere tanti dalla sicurezza di farmaci e alimenti allo sviluppo di terapie efficaci al semplice aumento delle conoscenze che è quello che ci dà la ricerca di base ok quindi bisogna essere molto attenti nel fare un'analisi di questo genere caso per caso ed è quello che ormai dal 1987 1886 è normato in Europa con una prima direttiva europea che come vedete norma la protezione degli animali utilizzati a fine di ricerca ok al legislatore europeo non interessa normare come noi dobbiamo fare ricerca il legislatore interessa normare come si fa a proteggere a garantire il massimo livello di protezione degli animali utilizzati in ricerca e poi vedremo i criteri principali in più al legislatore italiano è sempre interessato molto anche garantire il fatto che chiunque sia eticamente contrario ad utilizzare un animale in laboratorio possa fare obiezioni di coscienza e nessuno lo può costringere ad utilizzare un animale in laboratorio ok si può tranquillamente dedicare a tutta un'altra serie di attività ok è dal 1993 che nessuno più può essere assolutamente costretto ma neanche all'interno di un corso universitario a mettere una mano su un animale se non lo vuole fare ok e in Italia da questo punto di vista siamo molto avanti perché non c'è nessun'altra nazione una legislazione di questo genere cosa succede dopo il 1986 di molto rilevante è che a seguito del sempre maggiore interesse della comunità nei confronti degli animali e la sempre la maggior considerazione della comunità nei confronti del mondo animale nel 2007 con il trattato di Lisbona l'Unione Europea riconosce che gli animali poi vedremo quali sono degli esseri senzienti cosa vuol dire senzienti non vuol dire soltanto capaci di provare dolore fisico se vediamo un pizzicotto scappano ma anche capaci di elaborare un pensiero per il quale quella sensazione dolorifica significa una compromissione delle loro prospettive future significa capire che questo dolore gli comporterà qualcosa di peggiore anche in futuro quindi l'elaborazione di un certo tipo di sensazioni che non sono non solo il dolore ma anche lo stress il distress la paura eccetera eccetera ok la comunità europea riconosce agli animali lo status di esseri senzienti e quindi dice dobbiamo proteggerli sempre di più motivo per cui nel 2010 esce una nuova direttiva europea sulla protezione degli animali e viene recepita in Italia nel 2014 con una legislazione che abbiamo attualmente in vigore ok una legislazione che vuole fare di tutto per proteggere gli animali tanto che tutto all'interno di questo tipo di attività è soggetto a un'autorizzazione specifica del ministero della salute cioè un ricercatore non è che si alza la mantina e dice cosa faccio oggi ma faccio un esperimento su un pesce no deve prima ottenere una serie di autorizzazioni per andare a finire con un'autorizzazione con un decreto autorizzativo del ministero della salute che ti dice ok mi hai convinto è assolutamente necessario ti autorizza ad utilizzare anche un solo pesce di cui sentiremo parlare oggi ok altrimenti non si può fare si rischia la galera ok su che cosa si basa tutta la normativa perdonate che vado molto veloce ma se no non ce la facciamo su cosa si basa tutta la normativa si basa sostanzialmente su un principio etico che due ricercatori hanno dettato nel 1959 il principio delle 3R replacement reduction e refinement che vanno applicate in stretto ordine gerarchico replacement cosa significa che possiamo sentirci autorizzati ad utilizzare un animale in laboratorio solo ed esclusivamente se siamo in grado di dimostrare che non esistono altri metodi che non prevedono l'uso di un animale vivo ok quindi per poter richiedere l'autorizzazione al ministero della salute ad utilizzare anche un solo pesce un solo topo un solo quello che volete voi dobbiamo essere in grado di dimostrare che non esiste un altro metodo per ottenere lo stesso risultato uomo a parte ok se siamo capaci di dimostrare questo dobbiamo poi dimostrare che stiamo utilizzando il minor numero possibile di animali reduction ok compatibilmente con l'ottenimento di un risultato interpretabile e che stiamo utilizzando le migliori tecniche possibili refinement lo stiamo tenendo bene stiamo utilizzando tecniche di imaging eccetera eccetera che inducono l'animale al minor livello di sofferenza possibile altra cosa molto importante che stiamo utilizzando la specie col minor sviluppo del sistema nervoso centrale perché questo ci dà un certo livello di garanzia che potrà soffrire meno ok a parità di risultato dobbiamo sempre utilizzare la specie a minor sviluppo del sistema nervoso centrale ok e vedete che nel decreto legislativo è detto molto chiaro non solo autorizzabili procedure che prevedono gli impieghi dei mali vivi per le quali esistono altri metodi e strategie di sperimentazione quindi se esiste un metodo alternativo il ministero della salute non autorizza l'utilizzo degli animali ok se non esistono altri metodi minor numero di animali utilizzano animali con minor capacità di provare dolore minimizzano il dolore e lo stress i metodi offrono maggiore possibilità risultati soddisfacenti hanno il più favorevole rapporto danno beneficio vedete qui è condensato tutto quello che dicevo prima che deve essere il nostro continuo intento nei confronti dell'animale in laboratorio che cosa intende per animali il decreto e la normativa intende tutti gli animali vertebrati non umani e i cefalopodi che invece sono degli invertebrati la normativa non si applica ad altri invertebrati come ad esempio la drosofila o C. elegans che è un verbo rematode perché il legislatore ha fatto questa distinzione perché gli animali dai cefalopodi in su vengono considerati senzienti gli altri ad oggi non vengono ancora considerati senzienti io da ricercatore o da ex ricercatore o da persona che si occupa di queste cose vi posso dire non è mica vero ci arriveremo cioè chi si occupa di questo tipo di argomenti ci dice che anche il muscerino ha un suo livello di senzienza siamo noi che non abbiamo ancora capito come fa a dimostrarlo ci arriveremo ok così come dieci anni fa i cefalopodi non si rifilava nessuno con la nuova direttiva sono stati inseriti perché perché noi comunità di ricercatore abbiamo dimostrato che sono degli esseri senzienti se noi non ci avessimo studiato sopra non lo sapevamo ancora ok scopi per i quali può essere utilizzata la ricerca di base questo è importante che lo sappiate perché tutti pensano soltanto allo sviluppo del farmaco ma non è così ricerca di base cioè tutto quello che sta alla base delle nuove conoscenze su come funziona la vita ricerca di base ricerca applicata e traslazionale cioè tutto quello che ci porta poi ad avere delle terapie ok sviluppo di dispositivi biomedici avete presente cos'è un dispositivo biomedico andiamo dal cerotto al lago alla cannula al pacemaker ok dispositivi biomedici sono tutti questi e prima di arrivare all'uomo vanno studiati in un modello per capire se funzionano se non funzionano se sono biocompatibili eccetera eccetera test di qualità efficace sicurezza di farmaci e alimenti ok protezione dell'ambiente conservazione della specie alta formazione addestramento cardiochirurghi prima di arrivare a fare un intervento a cuore aperto su un uomo qualche tipo di esercitazione la fanno ok indagini forensi questi sono gli ambiti nell'arco dei quali vengono utilizzati animali al laboratorio possono essere utilizzati secondo la normativa animali al laboratorio qui ve lo scrivo chiaro almeno non ve lo chiedete dopo per le domande per i cosmetici è vietato dal 2013 quindi chi ancora vi dice ah ma i cosmetici no è vietato dal 2013 ok quindi tutte quelle scritte sui boccettini di shampoo non testato sugli animali al laboratorio eh grazie è vietato nei 10 anni thank you è un po' di pubblicità ingannevole per così dire ok stanno cercando di di fare bella figura con poco io non vi parlerò mai di vivisezione perché perché la vivisezione è vietata da tanti anni ormai si parla di sperimentazione animale è chiaro che chi vuole parlare negativamente dice vivisezione va bene glielo lasciamo dire e perché dico che è vietata da anni perché come vedete il decreto dice chiaramente non sono autorizzabili le procedure sui animali che comportano dolori e sofferenze o di stress intensi che possono protrarsi e non possono essere alleviati se c'è dolore ci deve essere anestesia e analgesia altrimenti l'esperimento non si può fare semplicemente ok non viene autorizzato farmaco dicevamo quindi andiamo velocemente come viene sviluppato un farmaco ci vogliono in circa dieci anni e ci sono delle fasi ben precise prima c'è tutta una ricerca di base dove vengono utilizzati i metodi in silico in chimico tutto quello che volete che non ha a che fare con l'animale in laboratorio per cui da tantissime molecole si arriva a un numero molto più basso che poi però ad oggi per legge deve ancora essere testato nell'animale per nei modelli animali per che cosa per efficacia e sicurezza ok dopo questa fase dei test degli animali vedete che le molecole diminuiscono ancora radicalmente si arriva nella fase 1 dell'uomo che è nei volontari sani la fase 2 che sono piccoli gruppi di pazienti la fase 3 grandi gruppi di pazienti alla fine il farmaco arriva in commercio ok questo è il percorso riflessione numero 1 se eliminassimo la sperimentazione animale noi con queste molecole andremo direttamente nella fase 1 dell'uomo nel volontario sano voi conoscete qualcuno che abbia fatto il volontario sano per studi di questo genere? no? oggi lo conoscete? ciao mi chiamo Giuliano ho fatto il volontario sano da giovane quando avevo a vostra età per pagarmi gli studi non mi vergogna dirlo ho provato 4 molecole una benzodiazepina calcitonina omega 3 che voglio dire nessun effetto collaterale a parte una fiatella che veramente ne bastava la metà ok l'ho fatto perché onestamente ve lo dico l'ho fatto perché sapevo che prima c'era tutta una fase di sicurezza fatta sull'anemaria laboratoria se non avesse avuto la certezza che prima c'era questa fase io col fischio che facevo il volontario sano e mi esponevo a tutta una serie di rischi io perché non so forse sono altamente egoista magari qualcuno di voi l'avrebbe fatto io onestamente vi devo dire no quindi questo è il percorso se eliminassimo la sperimentazione preclinica in questo momento andremmo direttamente nell'uomo e quindi ci dovremmo domandare chi andrebbe a fare il volontario sano quelli che hanno bisogno di so non so chi vediamo e perché la legge perché è diventato obbligatorio fare la parte di sicurezza e di efficacia nell'anemaria laboratoria non è che lo sia sempre stato è diventato obbligatorio a un certo punto e quello succedeva quando non era obbligatorio questa è una cosa carina 1939 viene scoperto che con i raggi X si può vedere all'interno del corpo umano è bellissimo si vede tutto però i tessuti molli no per cui c'è bisogno di un mezzo di contrasto beh bellissimo troviamo che il diossido editorio funziona benissimo si vede tutto via radiografie con diossido editorio siamo nei tempi della seconda guerra mondiale immaginatevi quante radiografie io riporto questa perché è carina perché è stato un medico italiano il dottor Bogliolo che ha dimostrato con 20 topi che il diossido editorio era altamente cancerogeno per cui è stato immediatamente ritirato dal commercio e non è più stato utilizzato per questo scopo purtroppo molti di quelli che hanno fatto che sono presi diossiditore come mezzo di contrasto hanno avuto un destino in fausto se fosse già stato obbligatorio non sarebbe successo è diventato obbligatorio fare un passaggio nel modello animale prima di arrivare all'uomo nel 1960 ok quando c'è stata un disastro farmacologico di un farmaco alla telidomia che ha fatto nascere centinaia di migliaia di bambini con gravissime deformazioni non sto a spiegarvi perché se volete qualcuno si ferma dopo glielo spiego dopo perché non era stato testato a sufficienza nel modello preclinico nel laboratorio ha fatto questo disastro in Europa non negli Stati Uniti perché questa signora che è stata premiata da JFK da John Fitzgerald Kennedy non l'ha fatto entrare negli Stati Uniti perché ha detto no, non ha abbastanza prove sulla sua sicurezza quindi negli Stati Uniti non lo faccia entrare ed è stata premiata da JFK perché ci ha visto lungo da quel momento in poi è cambiato il regolamento della Food and Drug Administration che è il principale organo regolatorio nell'ambito farmaceutico e è diventato obbligatorio testare per la sicurezza i farmaci prima di arrivare all'uomo ok quindi non è una cosa che l'uomo si è inventato così ma il legislatore ha normato in presenza di un problema in presenza di una sollecitazione e ancora oggi tutto arriva in questo modo credo che voi sappiate che se abbiamo avuto un vaccino per il Covid in tempi brevissimi è stato grazie a tutti gli studi che sono stati fatti sugli animali in primis e anche qui se volete poi approfondiamo e vi spiego come ha fatto la comunità scientifica sviluppare così velocemente un vaccino ok perché molti hanno detto cose non esatte ma l'abbiamo fatto grazie a tutti gli studi di ricerca di base che sono stati fatti nei vent'anni prima sui coronavirus ok trapianti questo signore qui voi non lo conoscete ma io che sono nato quando è nata AIRC ho avuto modo di studiarlo e di vedere ecco quello che ha fatto Christian Barnarda è stato quello che ha fatto il primo trapianto di cuore ma ragazzi prima di andare a fare un trapianto di cuore ne ha fatta di sperimentazione sugli animali e c'è chi dice che in Sudafrica non l'abbia fatta solo sugli animali però lui è quello che ci è arrivato avvalendosi di una serie di conoscenze che arrivavano al trapianto di rene eccetera eccetera però anche per arrivare a fare un trapianto chiaramente c'è stata molta sperimentazione di modelli animali questi due signori qui non li conoscete però è giusto per dirvi che anche nell'esplorazione dello spazio ok i primi che sono stati utilizzati per capire che effetto ha la prolungata esposizione con l'assenza di gravità sono stati dei modelli animali laica purtroppo è stata sfortunata perché la missione russa è fallita ed è esplosa nello spazio Ham invece vedete se la rideva si vede che se la sentiva che sarebbe tornato la missione è andata benissimo è tornato gli hanno fatto una tomba ha vissuto prima di 27 anni se andate ad Almogordo in New Mexico potete andare a visitare la sua tomba e oggi succede ancora si succede ancora non si usano più cani primati non umani si usa drosofile C elegans però anche nella missione che stanno facendo per andare a capire se possiamo arrivare su Marte hanno mandato esseri viventi per poter capire qual è l'influenza di una prolungata senza di gravità sull'organismo quindi arriviamo alla fase conclusiva spero di essere stato nei tempi dimmi se sto andando troppo lungo ma più che non ci siamo ancora 5 minuti quindi abbiamo visto in quali ambiti per fare che cosa è giusto che ci domandiamo sì ma di quanti animali stiamo parlando e di che animali stiamo parlando quindi io vi dico fin da subito che stiamo parlando nella stragrande maggioranza circa il 90% dei casi di eruditori perché eruditori? vi prego se qualcuno vi dovesse chiedere perché in ricerche si usano eruditori? non rispondete perché sono piccoli e costano poco perché è una risposta che non ha senso per favore ma per quello che vi dicevo prima perché a parità dei risultati che possiamo ottenere dobbiamo usare la specie più basso sviluppo il sistema del volo centrale che quindi ci dia un buon grado di garanzia che riduciamo la sofferenza che andiamo ad indurre nel nostro modello sperimentale ok? quindi prima vengono i eruditori nel 90% dei casi poi secondo voi chi c'è come percentuale? vi aiuto perché tanto abbiamo la lezione dopo quindi poi vengono i pesci poi dai coraggio qualcuno dobbiamo fare in fretta qualcuno che la butta lì animali? cosa viene secondo voi? che adappa? coraggio anche dai in fondo un animale che conosce dai sparatelo tanto ragazzi non uscitela qui fino a che non lo dite secondo voi qual è una specie che può essere più utilizzata tra tutti gli ambiti che vi ho detto sicurezza alimentare farmaci eccetera eccetera insetti no non rientrano alla normativa ok? invertebrati sono fuori vabbè dai oggi mi sento buono vai prova prova vai come? conigli vengono subito dopo uccelli pensate sicurezza alimentare ma voi pensate a quanti polli tacchini eh? ecco i conigli ce l'ho andato vicino suini anfibi e rettile bovini equini caprini oh ma sti cani e sti primati di cui ci parlano sempre ci fanno vedere ripetutamente assassini di qui da dove sono? sono qua guardate le percentuali sono queste perché? per il motivo che vi dicevo prima a parità di risultato che posso ottenere devo usare la specie più basso sviluppo e sviluppo centrale quindi soltanto un pazzo userebbe un primate non umano se può utilizzare un top ok? chi sono i pazzi che utilizzano i primati non umani? quelli che studiano ad esempio l'HIV perché? il virus dell'HIV non si riproduce in un'altra specie per cui sono costretto ad usare i primati allora troviamo qualche primato ok? o chi deve sviluppare i vaccini la sicurezza dei vaccini allora è costretto ad usare i primati e lo fa altrimenti col fischio gatti zero perché? perché graffiano è stata la risposta più bella che ho avuto negli anni non è perché graffiano ma è perché in Italia non c'è nessuna linea di ricerca nella quale può essere utile il modello gatto vi svelo una cosa in Italia purtroppo rispetto agli altri paesi facciamo molta poca ricerca purtroppo ok? quindi in Italia non c'è nessuno che fa studi in cui può essere utile il modello gatto questi sono i numeri di animali che vengono utilizzati le percentuali sono quelle 90% che sono stati utilizzati in Italia negli ultimi 4 anni sono appena usciti anche i dati del 2019 che sono praticamente sovrapponibili a quelli del 2018 i numeri sono più o meno uguali e secondo voi di più o di meno di quelli che vengono usati negli altri paesi questo lo saltiamo questo anche di più o di meno rispetto a quelli che vengono usati negli altri paesi europei dai questo è facile più o meno com'è? di meno bravissimo questi sono i numeri degli altri paesi guardate in Inghilterra un milione 8 contro il 500 mila perché? perché sono cattivi e non amano gli animali l'animalismo è nato in Inghilterra signore le prime leggi sulla protezione degli animali risalgono al 1800 erotti ok cruelty to animal act che è del 1800 erotti in inglese sono avanti anni luce da questo punto di vista ma fanno anche molta più ricerca io credo che molti di voi se andrete avanti con i vostri studi e con la vostra carriera andranno a farsi un periodo all'estero come ha fatto Elisabetta in paesi dove vedete noi siamo più o meno a livello del Belgio sì ma il Belgio è grosso così ci sono tre università ok questa è la realtà Stati Uniti non ve ne parlo neanche cioè Stati Uniti proprio a parte il fatto che i roditori quasi non li considerano neanche animali con l'emola e ferrata proprio loro vanno oltre ok ultimissima considerazione che voglio condividere con voi per capire se siamo specisti non siamo specisti ci possiamo permettere di dire che non siamo specisti abbiamo visto che sperimentazione animale in Italia circa 600.000 animali all'anno ok per tutti quegli ambiti che avete visto prima farmaci sicurezza alimentare bla 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 ok alta formazione addestramento eccetera qual è l'altro ambito nel quale in Italia sacrifichiamo tantissimi animali vi aiuto macelliamo tantissimi animali alimentazione avete un'idea più o meno di come sono i numeri pesci esclusi e se in ricerca lo zebrafish di Elisabetta vale 1 nell'alimentazione il gamberetto della salsa cocktail vale 1 giusto? quindi immaginatevi cosa diventerebbe questo numero se dovessimo aggiungere anche i pesci ok e cosa manca anche che non ci mangiamo e che invece rappresenta il 90% degli animali utilizzati in ricerca i roditori giusto? non sono tra quelli contatti dell'alimentazione ai roditori cosa facciamo? dai questo lo sapete ai roditori cosa facciamo? la deratizzazione non sto a dirvi andate a informarvi voi se volete sempre ve lo dico dopo come funziona il beleno topicida però vi siete mai domandati ma quanti topi secchiamo noi con la deratizzazione ogni anno? perché ci dà fastidio vederli in giro per le nostre città io sono di Milano quindi vi porto il dato di Milano questi sono i numeri soltanto a Milano in Italia all'incirca 10 milioni ogni anno quindi il porsi la domanda siamo specisti o no? e possiamo permetterci di pensare ad una società che non sia specista in maniera sincera e quindi dove mettiamo il limite oppure facciamo come la fattoria degli animali tutti gli animali sono uguali ma qualcuno è più uguale di qualcun altro per cui siamo specisti ai confronti di qualcuno ma non di qualcun altro cioè sarebbe veramente poco scientifico un comportamento di questo genere e noi siamo scienziati e ci dobbiamo comportare come tali e analizzare il problema nel suo complesso quindi chiudo qui e vi saluto ricordandovi questa bellissima copertina di le scienze siamo nella disinformazione ma il vostro compito è quello di far sì che questa cosa cambi voi state studiando e dovete far valere il valore del vostro studio nei confronti di chi invece dice che l'università di Google è più che sufficiente ok? mi sono spiegato quindi la disinformazione deve essere combattuta e poi visto che mi è tornata in mente vi saluto con questa frase di Einstein che trovo assolutamente molto pertinente tenentamente che le cose meravigliose che imparate a scuola e quindi in questo corso di studi sono frutto del lavoro di molte generazioni prodotte dallo sforzo entusiasta e dall'infinito lavoro in ogni paese del mondo tutto ciò ci viene dato come eredità e dobbiamo riceverlo onorarlo nel senso di dire oh ragazzi c'è gente che ci ha lavorato su queste cose non veniteci a dire che non sono vere aumentarlo giorno a giorno per poi passarlo un giorno a qualcun altro come spero di essere riuscito a fare io oggi passandolo a voi sono stato nei tempi non ho mai corso così tanto ragazzi ho il fiatone e sono qua per qualsiasi domanda io mi fermo va bene spero che ne abbiate le domande ne avete? oh fatevele venire se no non uscite da qua gliel'hai detto che se non fanno domande non escono cioè così prego lo abbasso un po' vi sentite bene? io aggiungo anche una scusate una cosa piccolissima che è a quello che ha detto Giuliano prima è che noi ricercatori alla fine proprio togliendo l'etica insomma tutte queste questa parte qui effettivamente se possiamo non usare un animale ma mille volte cioè cerchiamo veramente di non farlo perché lavorare con gli animali al di là appunto della di quello che ci possono dare in termini di di una miriade di informazioni che un semplice modello in vitro non ci può dare sono comunque dei sistemi costosi richiedono sforzi cioè un costo non solo economico ma anche umano quindi è tanto tanto lavoro e deve essere chiaramente mirato quindi qualora noi possiamo usare dei metodi alternativi ma mille volte cerchiamo di farlo quando questo non è possibile e il modello animale si rivela veramente l'unica alternativa che ci dà le risposte che noi cerchiamo ma per un benessere futuro perché almeno quello che io penso è che la ricerca sia poi il futuro sia per tutti sia il domani per tutti ecco cerchiamo sempre di di bilanciare le nostre scelte e di farle meramente in maniera molto eh focalizzata ecco ci dovevo ad aggiungere questa piccolissima cosa come in qualità di ricercatrice ecco che utilizza modelli animali sia Topolini che il modello di Zebrafish di cui vi parlo oggi in realtà io avevo preparato questa slide di presentazione per raccontarvi un pochino come sono arrivata a lavorare con la fondazione AIRC e come sono arrivata ad arrivare a a lavorare su questo progetto che io tengo veramente molto bello ma sono di parte sul carcinoma squamo cellulare che ci sta dando appunto degli ottimi risultati in termini di sviluppo di target terapeutici io come voi domani molto che arriverà molto presto spero mi sono laureata in biotecnologie mediche ho fatto un dottorato in medicina molecolare degenerativa e in questo percorso mi sono sempre occupata di pelle di caratterizzare quello che è il microambiente delle cellule staminali della pelle capire come funzionano e come quelle alterazioni che sono a carico delle cellule staminali possono poi eventualmente evolversi in in lesioni malattie e cancro da qui i miei studi sia in Italia che poi all'estero sono stati fondamentalmente incentrati proprio sull'isvolto oncologico ho collaborato quando ero all'estero con altri ricercatori per sviluppare dei modelli non solo in vitro ma anche animali che appunto ci consentissero di studiare alcuni tumori della pelle in particolare tra cui il melanoma e il tumore squamo cellulare di cui vi parlavo prima quindi una volta poi tornata in Italia ho avuto diverse borse di ricerca sempre in ambito oncologico fino ad arrivare poi a partire dal primo gennaio 2020 che è data bellissima per me ma in realtà dopo circa due mesi c'è stato un attimino di difficoltà perché è partita pandemia è partito un po' tantissime cose che hanno messo anche alla prova il lavoro dei ricercatori comunque siamo partiti con questo progetto che prevede sia appunto l'utilizzo di modelli tridimensionali modelli in vitro che di modelli animali sia topolini che zebrafish lo zebrafish è un organismo modello che ha veramente tantissime potenzialità e quello che vi farò vedere oggi è brevemente come possiamo utilizzarlo per effettuare degli screening di tipo farmacologico e tossicologico per fare quello che viene definito il phenotype guided drug discovery e per fare degli studi incentrati sul cancro studi incentrati sul cancro e vi porterò alcuni esempi di studi che riguardano il melanoma e studi invece che è quello che porto avanti io che riguarda il carcinoma allora prima di tutto questo è il nostro pesciolino adulto è un pesciolino che saprete è nativo dell'asia meridionale che è adotato di scheletro che quindi ha tantissime caratteristiche che per noi rappresentano sono fondamentali lo rendono un modello per eccellenza per lo studio di alcuni meccanismi tra cui appunto lo sviluppo e la funzione del cervello principalmente difetti congenti e il cancro perché accade questo perché come potete vedere qui dalla valutazione dello sviluppo nelle prime 72 ore noi abbiamo degli embrioni che si sviluppano esternamente alla madre e cosa molto importante per noi ricercatori è il fatto che sono trasparenti perché in questo modo possiamo osservarli e questo poi ci consente in questo periodo di tempo e nello specifico a due giorni dopo la fertilizzazione di valutare il destino di cellule tumorali che noi possiamo andare ad iniettare nella nostra larvetta vi farò vedere più avanti come e possiamo marcare queste cellule in maniera fluorescente possiamo guardarle per circa 5 giorni 5-7 giorni quindi possiamo veramente osservare in real time il destino di queste cellule poi cosa molto importante questi pesciolini raggiungono la maturità e sono in grado di riprodursi in circa 2-3 mesi quindi tempo relativamente breve e generano molta prole quindi vediamo che nell'arco di una settimana noi possiamo avere circa 200 uova perché questo è importante perché nella nella ricerca in generale avere la possibilità di lavorare con i grandi numeri è fondamentale se pensiamo a quanti esperimenti possiamo condurre con questi numeri diventa veramente un qualcosa di significativo pensiamo che vi faccio un esempio per ogni condizione sperimentale che rientra in un in uno specifico esperimento solitamente io riesco a partire con 25-30 larve questo moltiplicato per un triplicato almeno di esperimenti quindi capite che alla fine i risultati che si riescono ad ottenere iniziano ad essere molto significativi dal punto di vista statistico e non solo ha un costo sicuramente diverso più contenuto rispetto a quello che possiamo fare con con un topolino quello che dico sempre pensate a 25 larvette che possono essere mantenute in una in una petri pensate a 25 topi 25 topi mantenuti per un tot per condizione sperimentale quindi magari abbiamo nel mio caso sempre almeno 4 condizioni sperimentali quindi parlo di 100 topi se dovessi fare la stessa cosa avrei bisogno di una stanza per ogni volta che almeno una stanza una stanza e mezza ogni volta che faccio un esperimento la stessa cosa fatta col pesciolino ovviamente mi dà proprio dal punto di vista di spazio manualità ed efficacia poi di quello che andiamo a fare ovviamente una grandissima differenza quindi diventa veramente molto importante altra cosa abbiamo una similarità dal punto di vista genomico del 70% e di questa percentuale abbiamo un 80% di geni che sono associati a malattia che ritroviamo anche nell'uomo quindi riusciamo a fare degli studi che riguardano per esempio il metabolismo oppure riusciamo a fare quello che è appunto degli screening perché possiamo analizzare l'effetto dato da molecole composti farmaci che possono essere o somministrati direttamente aggiunti nell'acqua oppure possono essere iniettati nuovamente nel pesciolino mi è capitato di fare questo e quindi possiamo andare a fare anche studi relativi ad assorbimento distribuzione metabolismo valutare l'effetto tossico sempre su grandi numeri ecco questo è l'esempio di una cosa di cui ci occupiamo in laboratorio tra le varie cose abbiamo valutato l'effetto tossico della somministrazione di questa sostanza e l'abbiamo valutato sia andando a iniettare la betaminoide che forse la ricorderete nella malattia nell'Alzheimer quella che si accumula nei malati di Alzheimer che formano le placche e che è il ligando per un recettore di cui ci occupiamo di cui vi racconterò a breve quindi niente abbiamo provato sia ad iniettarla che ad aggiungerla nell'acqua e abbiamo visto che appunto determinate condizioni risulta essere assolutamente sicura per quanto riguarda la tossicità dell'animale questo perché noi volevamo utilizzare questo ligando per trattare in maniera specifica l'animale però la stessa idea è appunto quella di utilizzare una qualsiasi sostanza e fare degli studi molto simili a questo altra cosa abbiamo appunto una similarità per quanto riguarda l'interazione tra le cellule endoteliali e la risposta immunitaria per cui possiamo avere anche delle informazioni proprio sulle caratteristiche farmacologiche della sostanza in oggetto di analisi e possiamo fare appunto questi screening che ci permettono via via di selezionare molecole di eliminare quelle molecole tossiche e di arrivare a selezionare delle molecole che poi effettivamente sono efficaci che poi potranno essere portate avanti per i successivi studi oppure l'ultima cosa possiamo fare una cosa opposta possiamo andare a valutare l'effetto che determinate sostanze possono avere sul fenotipo e quindi in maniera indiretta andare a identificare la via la pathway coinvolta e quindi andare a studiare nello specifico quella sostanza quindi ottenere quello che si chiama il rescue del fenotipo qui ho riportato giusto un esempio su uno screening fatto con alcune molecole che andavano a sopprimere l'effetto della mutazione del gene gridlock che è sempre essere associato a difetti vascolari e quindi si è visto dopo questo screening che c'era un rescue del fenotipo che si andava a interagire con questa pathway del UAGF e si aveva appunto un ritorno del normale fenotipo e quindi da lì è partito quello studio specifico su queste molecole arrivando alla pelle ecco qua in questa slide molto carina ho riportato un po' tutto quello che è possibile fare utilizzando lo zebrafish per studi che riguardano la pelle quello che andiamo a guardare è lo skin tumor modeling e quindi capire come possiamo fare degli studi utilizzando appunto questo animale utilizzando sia delle linee transgeniche quindi inizialmente linee transgeniche che si ottenevano mediante mutazioni random che invece adesso si ottengono tramite tecnologie un attimino più avanzate che è per Cas9 Technology o insomma altre metodiche che ci consentono di andare ad effettuare mutazioni o insomma alterazioni specifiche a livello genomico oppure si possono fare quelli che vengono definiti di xenograft e quindi utilizzare andare ad iniettare delle linee cellulari oppure delle linee primarie delle da cui ottenere appunto modelli di cancro umano e nel secondo caso quelli che ultimamente vengono chiamati zebrafish avatar ora se vogliamo andare a guardare nello specifico i modelli di melanoma soccorrendo come pochi andando a guardare nello specifico i modelli di melanoma andiamo a guardare prima di tutto quello che è un esempio di quello che si è ottenuto utilizzando delle linee transgeniche il melanoma per chi di voi non lo conoscesse o anche per fare un attimo di prevenzione è una delle forme più letali di cancro della pelle deriva dai melanocidi che sono appunto queste cellule della pelle che sono responsabili della produzione del riempimento e che conferiscono appunto protezione nei confronti delle radiazioni ultraviolette quindi ha un'incidenza che negli ultimi anni è cresciuta tantissimo il fatto che ed è diventato insomma è una problematica notevole perché appunto se viene preso in tempo si può curare facilmente ma se diventa metastatico diventa un problema veramente grave perché purtroppo il melanoma metastatico è resistente alle terapie è molto resistente alla chemoterapia è molto eterogeneo dal punto di vista delle mutazioni per cui diciamo non è un qualcosa di semplice con cui confrontarsi dal punto di vista terapeutico ecco se guardiamo quello che è stato fatto per quanto riguarda il melanoma con lo zebrafish vi riporto questi due esempi che riguardano lo sviluppo di modelli che hanno delle mutazioni nei geni BRAF e nel genere RAS che rappresentano diciamo le principali mutazioni che noi troviamo nel melanoma e che portano diciamo ad una iperpoliferazione di queste cellule proprio perché vanno a colpire la via mitogenica quindi la principale mutazione è quella di BRAF che è quella più frequente e quindi sono stati nel tempo sviluppati dei modelli di zebrafish che riportano mutazioni di BRAF e di P53 che conoscete tutti chi è quindi vado tranquilla e quindi dovrebbero no non ok allora P53 diciamo quella che viene definita la proteina un po' guardiano della della cellula e viene ad attivarsi nel momento in cui la cellula ha un danno normalmente quindi nel momento in cui c'è un danno c'è questa proteina che dice ok vediamo se il danno è riparabile quindi viene un attimo bloccato il ciclo cellulare per riparare il danno altrimenti che vengono innescate delle altre vie che portano poi la cellula ad andare in apoptosi e quindi ad essere un po' eliminata dall'organismo senza causare delle altre problematiche per farla un po' riassunta al massimo oppure abbiamo ecco invece degli altri modelli quindi abbiamo modelli con le mutazioni di questo gene che è BRAF che è implicato in una delle vie che inducono proliferazione che deve essere sempre associato ad una mutazione con perdita di funzione della proteina P53 oppure abbiamo dei modelli trasgenici in cui abbiamo delle mutazioni di RAS anche questo è un gene una proteina implicata sempre nella proliferazione che invece si è visto non c'è bisogno di avere delle altre mutazioni per produrre per dare origine a dei piccoli tumori dei melanomi ecco questo è quello che succede quando si ha la mutazione in BRAF allora in questo caso in questo modello praticamente la mutazione di BRAF è stata messa sotto il controllo di un gene che si chiama METF che è il fattore di trascrizione associato alla microtalmia comunque è un gene che è espresso in maniera specifica nei melanociti quindi dal momento in cui io faccio esprimere ai melanociti dell'animale il gene con la mutazione inizialmente appunto si ottiene un accumulo una crescita anomala di melanociti questo non è sufficiente ad indurre la trasformazione in senso tumorale ma bisogna associare questa mutazione ad una perdita della funzione della proteina P53 e quindi nel momento in cui abbiamo queste due cose il pesciolino può sviluppare un piccolo tumore un piccolo melanoma e questo modello no scusate c'è dopo allora questo modello quindi porta alla formazione appunto inizialmente di questi nevi che poi con la mutazione successiva di P53 diventano dei melanomi l'altro modello è quello legato alla mutazione di RAS che anche in questo caso messa sotto il controllo di un promotore che è espresso in maniera specifica nei melanociti anche in questo caso si ottiene la formazione di melanomi che però a differenza del modello precedente avviene in maniera molto più rapida quindi qual è il discorso in questo caso che si ottengono dei modelli che in trambi i casi possono produrre dei melanomi ma possono avere alcune limitazioni che sono riportate qua come per esempio che il fatto che il tempo necessario per indurre il tumore nel primo caso è lentissimo e quindi si possono magari si possono avere delle mutazioni che esattamente possono non corrispondere al modello umano oppure nel secondo caso si possono avere delle mutazioni che portano a uno sviluppo rapidissimo del tumore quindi non si riescono magari a studiare i meccanismi fini di regolazione che ci possono essere dal momento in cui inizia a formarsi il piccolo tumore al momento in cui il pesce viene il pesciolino viene sacrificato in ogni caso da questi modelli poi sono partiti ci sono solo i primi modelli sono partiti tutta una serie di studi e attualmente appunto si riescono ad ottenere dei modelli di teaprofisher con agenda su differenti aspetti delle diverse vie che sono implicate nella formazione del melanoma l'altra cosa che vi riporto sempre relativamente alla melanoma è l'iniezione di linee cellulari che è un'altra cosa che possiamo fare ecco questo è un caso è il caso di una cosa che è stata fatta dal mio laboratorio in cui sono state iniettate delle cellule di melanoma ma vi racconterò veramente a breve che cosa consiste di che cosa stiamo parlando perché mi addentrerò poi nel progetto che riguarda questa proteina C271 e in questo caso noi possiamo andare a valutare la formazione di metastasi a distanza andando a vedere come le cellule che noi andiamo ad iniettare marcate precedentemente in maniera fluorescente possono andare a distribuirsi all'interno dell'animale perché abbiamo formazione di piccole metastasi quindi cellule che possiamo rilevare o in vicinanza del sito di iniezione oppure a distanza da questo punto in cui abbiamo iniettato il nostro gruppo di cellule quindi detto questo ho fatto una carrellata veramente velocissima spero di non aver dimenticato nulla andiamo a guardare cosa succede nel carcinoma scoma cellulare e in questo caso parliamo sempre di modelli con delle iniezioni insomma con dell'ixenograft perché non abbiamo ancora sviluppato delle linee trasgeniche in questo caso ecco questo è il sistema che viene utilizzato un po' schematizzato in questa slide in cui praticamente noi andiamo a prendere adesso lo andiamo a vedere nello specifico andiamo a prendere delle cellule le marchiamo e le andiamo a dimettare nel pesce quindi cosa facciamo abbiamo le nostre celluline che sono cresciute in determinate condizioni in vitro in coltura e in coltura quindi queste cellule possono essere cellule trattate cellule che hanno subito magari una in cui è stata fatta un'overespressione per una determinata proteina sono state trattate in un modo tale da silenziare un genere in particolare possono essere di diverso tipo per cui le potenzialità della tecnica sono veramente tante quindi queste cellule vengono marcate con dei coloranti con dei traccianti che possono che si vanno a legare alle membrane cellulari e quindi possono essere mantenuti per un numero di generazioni quindi possiamo valutare anche cellule che nel frattempo magari avranno poliferato quindi vengono marcate fatte delle incubazioni vengono risospese a densità elevatissime in modo da poi eseguire un'iniezione nel pesciolino e si arriverà ad iniettare in quella larvetta che vi ho fatto vedere all'inizio circa 50-100 cellule per animale ecco i pesciolini a due giorni post fecondazione vengono insomma prelevati vengono anestetizzati soprattutto vengono adagiati su un supporto inseriti insomma in metilcellulosa per poter mantenere poterli mantenere fermi sostanzialmente e una volta fatto questo si procede con l'iniezione con delle micropompe che permettono appunto di rilasciare una quantità picco litri di di sospensione cellulare e una volta fatto questo i pesciolini vengono mantenuti a 33 gradi quindi si cerca di trovare un compromesso tra la temperatura ottimale per il pesciolino e la temperatura ottimale per le cellule umane che cerchiamo di stare nel mezzo quindi arriviamo a stare circa 33 gradi e quindi da questo punto in poi noi iniziamo a monitorare il comportamento delle cellule ecco qui c'è una piccola foto di un pesciolino che in realtà è fluorescente deve essere Fliwan questo insomma è un animale un dermozebra di sito transgenico in cui abbiamo le cellule endoteliali rese fluorescenti mediante un gen reporter e in rosso vedete le cellule marcate che sono state iniettate ecco cosa possiamo fare a questo punto una volta che viene fatta l'iniezione possiamo o iniettare nuovamente un farmaco per vedere se appunto funziona perché noi abbiamo appunto l'intenzione di valutare l'efficacia di un farmaco oppure possiamo fare la stessa cosa però andando ad aggiungere nell'acqua in ogni caso a distanza di 5 giorni dal trattamento oppure dall'iniezione facciamo queste valutazioni che vedete in basso schematizzate possiamo valutare le cellule che sono rimaste nel sito di iniezione le cellule che si sono spostate quindi si trovano in vicinanza del sito di iniezione quindi rappresentano delle metastasi iniziali e delle cellule invece che sono andate tranquillamente in giro sono andate verso la coda sono andate verso il cervello verso altre zone e quindi hanno creato quelle che si chiamano delle metastasi full insomma sono validi intanto perché abbiamo avuto possiamo fare un gran numero di replicati e ci danno delle indicazioni poi successive su quello che sarà il futuro sviluppo di questo target ecco questo per concludere in maniera straveloce spero di essere stata chiara anche nonostante la mia velocità e grazie a tutti per l'attenzione oddio non ho cambiato il nome c'è ancora il nome di Alessandra non c'è quello di Elisa chiedo scusa mi sono accorta in questo momento ci sono domande a tutti e due i relatori anche chi è collegato in fiera anzi chi è in fiera e chi è collegato online curiosità sì c'è una domanda aspetta che non so se in fiera hanno sentito così lo condividiamo quindi qua in aula chiedono con quanti zebrafish ha lavorato la dottoressa Palazzo in totale allora siamo vieni qui allora riuscire a dirlo in maniera specifica è difficile però sempre per facendo un conto molto rapido fai conto che per ogni esperimento che viene fatto bisogna partire da un minimo di 30 larve per condizione ok quindi facendo un conto di 30 larve per condizione io ogni volta che faccio un esperimento vado a fare un esperimento con non meno di 250 larvette ogni volta perché ovviamente oltre alle condizioni che vengono utilizzate sono necessari un certo numero di controlli quindi ho bisogno di avere anche i pesciolini non iniettati oppure i pesciolini iniettati con delle sostanze di controllo sostanze inerte non so un PBS un buffer un qualcosa che non provoca niente perché oltre a valutare tutto ciò che riguarda la metastasi insomma tutti i vari parametri di cui ho parlato prima devo anche tenere conto della vitalità dell'animale perché per avere un esperimento efficace devo chiaramente avere non più del 15% di mortalità alla fine dell'esperimento devo avere gli animali che comunque vengono mantenuti nel tempo poi arrivo comunque a fare massimo 5-7 giorni perché dopo poi abbiamo un'attivazione comunque del sistema immunitario dell'animale e quindi dopo il pesciolino inizia a morire proprio per causa del trapianto però comunque l'esperimento efficace deve partire da un minimo da questo minimo di animali quindi nel tempo sono utilizzate un po' di un po' di larve e persi un po' di occhi soprattutto voi si tutti i collaboratori miei insomma del gruppo altre domande una sola no dai ne sono 148 più in fiera non so quanti siano più in aula li hai contatti più o meno 40 anche a Giuliano vuoi farle vuoi farle tu infatti le rimane dai faccio una domanda loro sì qualcuno di voi ha a casa un acquario ha dei pesciolini anche di quelli che sono a casa cioè a casa scusatemi di quelli che sono nessuno anche di quelli che sono in fiera in altre siti online sì online sì ok fantastico allora se ha avuto un acquario saprà anche Cristiano ok e beh ma Cristiano non vale è un po' ricuota diciamo così chiunque abbia avuto un acquario a casa sa perfettamente che i pesci di cui ci parlava adesso Elisabetta non sono diversi da quelli che chi ha un acquario va in un negozio che vende pesci e può acquistare portarseli a casa e mettersi all'interno del proprio acquario qual è la grande differenza è che Elisabetta per farlo deve avere una serie di autorizzazioni come dicevo prima folle se io oggi vado in un negozio di pesci e prendo un sacchettino con dentro 30 pesci nessuno mi chiede niente nessuno mi chiede ma dove si li porta lei dove si li mette c'è un acquario ma il suo acquario funziona? l'acqua è la temperatura corretta? è pulita abbastanza? quali sono le caratteristiche dell'acqua? quali sono? niente tutto questo assolutamente non esiste il pesce sta bene vengono a controllare se dopo un mese che ce l'ho sta bene oppure sono più contenti se dopo un mese vado nel compro altri 30 perché hanno business e quindi i primi 30 chissà dove sono finiti ok? sono gli stessi identici animali solo che in un caso c'è una grandissima attenzione al loro benessere alle loro condizioni a che cosa gli succede nell'altro caso c'è una libertà totale grandissima attenzione che è giustissima correttissima e che noi accettiamo applichiamo e come diceva Elisabetta teniamo il pesciolino a 33 gradi vi garantisco che non è facile o la temperatura che deve avere ok? è una cosa che ne facciamo perché ne va del risultato scientifico insieme al benessere dell'animale però volevo sottolinearvi questa grossa differenza che in un caso c'è un'attenzione incredibile nell'altro caso invece tutte queste attenzioni non ci sono ma i pesciolini sono gli stessi identici ve lo posso garantire domande? sì c'è una studentessa collegata che chiede aspetta che si è chiuso un approfondimento sui tempi di sviluppo del vaccino per il SARS-CoV-2 di cui avevi citato di cui avevi accennato prima che hai detto infatti poi chi vuole sì questo è io no no ma grazie dopo ho anche il treno basta è troppo seduto sì lo dicevamo forse anche l'anno scorso mi sembra la comunicazione che è stata fatta sullo sviluppo del vaccino mi ha fatto sembrare le cose estremamente semplici e si è detto non so se ve lo ricordate ma com'è possibile che in solo pochi mesi abbiano tirato fuori un vaccino in realtà quello che è successo è che questo è SARS-CoV-2 cioè è una continuazione sostanzialmente un virus molto simile a quello che abbiamo avuto nel 2003 che era SARS-CoV-1 ok e che fortunatamente da un certo punto di vista si è autolimitato ok però nel 2003 per studiare questa prima epidemia di SARS sono stati sviluppati dei modelli animali ok dei topi geneticamente modificati che esprimevano il recettore al quale effettivamente si lega il virus sono stati creati sono stati utilizzati e poi sono stati per così dire messi in una specie di archivio ok esistono dei grossi archivi dove vengono mantenuti gli embrioni animali geneticamente modificati che quando sono necessari vengono ripresi ok per questo motivo nel momento in cui c'è stato il bisogno sono stati rivitalizzati questi animali con queste modificazioni genetiche sovraesprimevano esprimevano per meglio dire il recettore al quale si lega questo virus e grazie a questo si è potuti andare molto spediti se non ci fosse stata tutta questa ricerca di base fatta nel 2003 noi nel 2020 non ce l'avremmo avuta e l'avremmo dovuto spendere 5 anni 10 anni per mettere appunto il modello sul quale puoi sviluppare delle terapie efficaci quindi questa cosa ci siamo un po' dimenticati di raccontarla è sembrato che fossimo dei maghi ma in realtà in ricerca maghi non ne esistono ok esiste tanta fatica esistono tanti anni di studi fatti con pazienza portati avanti con quello che è la dinamica del trial and error ok faccio tanti tentativi molti di questi falliscono purtroppo pochi di questi invece ottengono darne dei risultati effettivamente che ci fanno fare dei passi avanti ma questo è il modo in cui si sviluppa la ricerca e senza ricerca di base non si va da nessuna parte lasciatemi dire posto in maniera sì per Chiara quindi appunto chiedeva Giuliano se appunto era sufficiente la sua risposta se avevi altre curiosità qualche altra domanda nel frattempo qui in aula o online la potete scrivere nella chat sì tutto chiaro io avevo una domanda per Elisabetta quindi dal punto di vista terapeutico quella proteina potrebbe essere ad esempio somministrata dal punto di vista degli sviluppi terapeutici noi tu hai fatto come ho stato quindi dal punto di vista proprio terapeutico e quindi poi biotecnologico per esempio tu parliamo di prodotti biotecnologici visto che siamo in questo corso allora in realtà entrambe le cose nel senso che nel frattempo stiamo cercando di capire come veicolare una parte di questa proteina e dall'altra la betaminoide che è quella che accennavo avevo detto all'inizio è il ligando naturale per questa proteina quindi stiamo facendo anche degli esperimenti utilizzando la betaminoide che in realtà non può essere chiaramente utilizzata come terapia però sulla base di questo è possibile sviluppare delle molecole successive che possono agire legandosi a questo sistema ok quindi possono in realtà abbiamo entrambe le cose una veicolazione diretta oppure un'attivazione grazie 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 a tutti grazie a tutti